Musica Laboratorio in fermento all'indirizzo moda Leonardo da Vinci si prepara la collezione da proporre a fine anno su che cosa si punta quest'anno quest'anno faremo una collezione su Red Carpe Quanti abiti proporrete? Più o meno se riusciamo la nostra idea è quella di fare 25 abiti faranno la sfilata gli studenti della scuola perché gli abiti sono stati realizzati sulle loro misure I tessuti quali sono? I tessuti sono il cadì, il ducess, il pizzo, diciamo taftà quindi i tessuti di una certa importanza Vi avvalete anche dell'aiuto di un salto d'eccezione di San Giovanni Appiro che vi guida con la sua esperienza cosa vuole dire a questi giovani che si avvicinano? Di portare avanti questa arte che è una cosa che dà grande soddisfazione La qualità dei tessuti è come quella di ieri? No, 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 è peggiorata ieri c'erano dei tessuti straordinari come il Zegna, i Cerruti, l'Orobiana oggi purtroppo è molto sintetico E qui ci troviamo anche una studentessa dell'indirizzo moda che ha ricevuto un premio con H2O è un'azienda situata a Napoli abbiamo presentato 10 capi per una donna che va al lavoro E ora tu che cosa hai vinto? Ho vinto uno stage di sei mesi da svolgere a Napoli nella loro azienda